più che il primo tempo diciamo i primi 20 minuti abbiamo sofferto non riuscivamo a vincere nessun duello e molto spesso riuscivano ad entrare troppo facilmente però insomma siamo stati fortunati e magari non siamo stati fortunati a monopoli sugli episodi quindi però sono un felicissimo per come i ragazzi hanno reagito a fine primo tempo secondo tempo secondo me meritavamo poi noi punti di vincere però insomma 0 a 0 che anche se abbiamo avuto sia noi che loro delle occasioni un po' stretto sul piano dei gol ma che alla fine un tempo per uno ci può stare a noi andiamo sempre in campo come oggi per cercare sempre la vittoria noi siamo la salernitana e dobbiamo insomma cercare di mentalizzare anche i ragazzi su questo ovviamente anche gli altri lavorano in settimana duramente gli altri hanno anche un blasone come il bario anche il cosenza oggi è una squadra che comunque sta lottando in zona playoff si è visto che con che la squadra di qualità quindi noi che dobbiamo continuare a lavorare in questa maniera siamo altri risultati utili era un periodo comunque sia buono i ragazzi lavorano bene e credo che siamo sulla strada giusta ma a prescindere se anche ci sarà un risultato negativo ripeto dobbiamo continuare su questa linea